Musica 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 Hello! Salve a tutti, sono Bear ed eccoci qui ancora con... Aspijoki Don't start! Yeah, dobbiamo ammazzare questo Toll Build Indossa l'equip... Ma chi se ne frega se ne è andato! No, indossa l'equipaggiamento da guerra! Come me! La 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 Allora io l'ho distratto, tu adesso lo sciop... Aspij, aspij, aspij Oh, sta testate! Sta calmo tu... Ah, oh! Ma ha beccato in pieno! Oh, cacchio! Aspij... Aspij... Vediamo se riesco... A fare come nei vecchi tempi Di bravura don't starviana Bravura don't... What's up? Oh, oh, sta fermo... Ah! Oh, ma peccato! Ah! Ah! Ma non mi... A quanto stai di vita? A quanto stai? 74... Ah, ma non attacca con lo spazio! What? Mannaggia, io miro sempre alle gambe! Ah! Ah! Dimenticando che ha le gambe... Ah! Ah! Ok, sto crepando! Ma quanto è duro sto tall bear! Allora ricordavo più morbido! Ok, sta arrivando da te! Ah no! Ah no! Arrivo! Yes! Oh, ma questa... Colpisci, lo colpisci alle spalle! Ah! Tagliagli la gola pennuta! Uh! Grande! Oh! Oh mio Dio, l'animazione di morte è stupenda! E non dà neanche tanta roba! Perché ho sprecato tipo l'80% il mio boomerang! Vabbè, con la carne è un uovo, quindi... Te la sei presa? Te la sei presa tu un uovo? Sì, grande! Sì, 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 sì! Oh, rompiamo questa pietra! Proviamo! Ma tanto ci saranno schifili! Lo penso! No! Sì! Speravo che... Schifili! 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 Il mostro di pietra! Un... Un altro... Come il mostro di... What? Nelle caverne! Da quell' esce il mostro di pietra! Ma io ho trovato una moon rock! Moon rock! Pure io l'ho trovata! Aspetti, io che lancio l'inventario! Che cacchio? No, nemmeno io c'ho l'inventario! Tieni! Ma io non c'ho l'ho! No, non l'ho troppo! Aspetta, aspetta! Oh, io non c'ho l'inventario! Non c'ho l'inventario! Non c'ho l'inventario! Oh! Ecco! Ecco i giunchi! Ecco i giunchi! Grande! Attenzione ai tentacoli, eh! Aspetta, aspetta! Io esco un attimo che devo mangiare! Dove stanno? Via! Ah! Tettacolo! Ho appena finito di dire! Attenzione ai tentacoli! Allora, no, no, no! Piccola cosa! Io mi devo liberare un po' di inventario! Altrimenti, cioè, è sprecato così! E devo anche spostare la fottuta Thermal Stone! Perché mi sta, tipo, shottando! Ed è già al tramonto! Oh mio Dio! Ma non c'è una singola rid... Oh! Eccola qua, una rid! Aspetta, vediamo! Ci sono dei tentacoli? No! Niente tentacoli! E uno! Quante ne servivano per il papiro? Ah! Panne! Boh! Abbonda! 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 Fai tipo 5, 6, qualcosa di simile! Cacchio, ma dove sei adesso? Sto qua! Ah! Sto morendo di freddo! Sto morendo di freddo! Aspetta! Ma come fai a non morire di freddo tu? Perché io ho la barba! Ma co- Ho anche il cappello da battaglia, figurati! Ah ma io ho quello di lana, ancora più figo! Eh, mi sa che devo mangiare sta roba qua, perché altrimenti crepoli! Ma con la moonrock cosa cacchio si fa? Veramente, gente, dobbiamo dare un'occhiata alla wiki! Ah, tentacolo! Attento! Be careful! Eh, tentacolo! Eh, tentacolo pure qua! Eh, ce ne sono tanti di sti tentacoli! Ma porca miseria, ma neanche un reed! Io per ora ne ho due! Quanti ne hai trovati? Eh, non so se basti! Io andrei sul sicuro 5, 6, qualcosa di simile! Aspetta, vediamo un attimo! No, ne servono 4! No, vorrei fare un altro! Ah! Ne servono 4! Ho visto dalla barra qua vicino! Aspetta, vediamo, questo è un posto sicuro! Vediamo se sulla mappa sono usciti! Sì, sulla mappa ne è uscito uno e non l'ho preso! Aspetta, torno indietro! Okidoki! È sempre meglio controllare la mappa! Veramente c'è, la barba è OP! La mappa è un po' più... La barba è fottutamente OP! Vede un po' di più! Uh, c'è una testa di coso! Sì, li... Oh! Quindi qua ci sono... Comunque sto a mezzo congelando, quindi magari preparati per un campfire o per dar fuoco a qualcosa! Sì! No, decisamente no! Però vabbè, insomma, se riusciamo a trovare un posto senza tentacoli possiamo tranquillamente fare un campo! Sì, però la nostra sanità va! Uh, ecco! Read finale! Ce ne torniamo a casa! Yeah! Ciao a tutti! Poi torniamo a casa e servivano tipo due papiri, probabilmente! Riusciresti tipo accendere un albero! Per favore! Mi hai... Hai da accendere! Sì, aspetta! Un altro read! C'è tutta la foresta qua da accendere! Ah, non... Ok, accendi, accendi! Aspetta, vieni qua! Non accendiamo davvero tutto! Un albero singolo! Tipo questo! Ecco qua! Thank you! De nada! Au! Un altro read! Uh... Oh! Cribbio! Tio! Ahahahah! Applausi! Ma mi ha fatto due di danno! Sto figlio di buona donna! Quanto t'ha fatto? Nel senso, mi ha attaccato due volte! Però mi ha tolto solo dieci! Ok, ok! Ma mi ha fatto saltare dalla sedia! E tu sei di quel read! Fai un giro largo e prendilo! Oh! Ma sti buone figli di donne! Tutti figli di una donna! Oh, oh, oh! Campfire! 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 Vieni qua! Ok! Oh, ma io non c'ho la legna per fare il campfire! No, in realtà ce l'ho! Era uno scherzetto! Mio Dio! Già stavano andando verso quelle lucciole! No, in realtà... Ne avevo solo un'altra! Io vado dalle lucciole! Mi sono offeso! Cosa? Oh cacchio, si sono spente! Ok! Cosa? Ok, son tornato! Niente! Guarda, guarda le lucciole che si spengono quando vai la! Si sentono tipo si imbarazzano e si spengono! Ok, sto crependo di femmine! Ah! Tipo tu vai e si spengono! Te ne... Vai via! Oh, figata! Quindi io posso passare da lucciola a lucciola! Si! Però fai attenzione! Così! 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 Sì, però la mia sanità mentale sta andando a quel pa... Oh, guarda che watcher! Oh mio Dio! Ok, tra poco... Cioè, fatto giorno ce ne torniamo a casa! Tra poco a meno di 35 sanità mentale va tutto a quel paese, penso! Perché ne ho 40! Yes! Oh, bello! Già adesso mi possono attaccare o sbaglio? Ah, 25 se non erro ti iniziano ad attaccare! Che gioia! Che bello! Vabbè dai, spero che in vera possa raccogliere qualche fiore o cacchiate mani! Ah! Ma anche in inverno in teoria dovrei! Se ci fossero sti fiori! Anche in inverno dovrei essere capace di raccogliere fiori! Sì, se ci sono sì! Se ci fossero almeno! Oh dai, siamo solo 29 giorni di sopravvivenza! Oh mio Dio! Dovremmo fare una base più forte, dovremmo essere più pro di così! Sì! Dovremmo! Sì, ma... Se i reeds sono così lontani che colpa ci abbiamo? Ma infatti! Qua adesso tipo torniamo a casa è tutto sfasciato perché i pinguini ci stanno... Ci hanno giocato tipo Tarzan! Ci hanno giocato! Tipo Tarzan con il campo, le scimmie! yeah! Tipo sentiamo la musica... Tarredatata... e troviamo i pinguini a giocare col frigorifero ok fammi cucinare un po perché sto crepando di fame ritorniamo alla base dobbiamo fare sto da gabbia per uccelli aspetta ricordati al tarman stone e la ci sono dei fiori del male o aspettando ste altre rizzo ci sono quattro rizzo belle vicino vicino anzi 5 rizzo anzi 6 rizzo le rizzo erano tutte qua che io ho visto un frattamento fai attenzione eccolo eccolo fai attenzione mio dio 3 rizzo di filo bello ma erano sei gabbie erano sei ok fai strada per tornare a casa mi fido di te vado così a senso io che bello allora esperto che gioia ali come detto non c'era dei fiori con male ok non ci andiamo qua per piacere non vorrei incontrare un altro simpatico tentacolo io portarei anche la mia ultima sanità mentale 37 sanità mentale mio dio dobbiamo andare a cucinare a casa è l'unico modo un'altra roccia strana stramba una roccia ti dà la murrock probabilmente se prendi la prende vabbè la prendo io che ne ho già una mi le stacco io non ce ne ho come nei solo una o avevo già una tricola ma quella che toccato io ma c'è da monster mente sta andando a male perché sono stato così qua portarmi la c'è un mary bush porta così a random ottima si però non ho dove metterlo hai uno spazio dove metterlo ha chiesto hanno aspettato non ho trovato lo spazio aspetta che stipini inutili spera prenditi la murro ok passa perché magari che ne so se sono utili invece di tornare quale prendiamo adesso let's go e no non ne vedo altre per ora poi magari torniamo se sono così utili da fare qualcosa di incredibile già vedo nei commenti per basbera espi serve a questo e quello e quell'altro e noi non sappiamo niente è tipo la cosa più rara di tutta la don't start together ok ok wow allora siamo fortunatissimi come al solito allora aspe aspe non andiamo a no ok si vai di qua vai vieni 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 eh si è l'unica di qua c'è il mare vero andiamo non possiamo nuotare ah ho sempre detto e desiderato avere una cavolo di barca in questo gioco però non l'hanno ancora messo è vero ma alla fine i limiti della mappa ma che cacchio mi ha volato in faccia non lo so qualcosa mi ha volato addosso che bello un uccello non lo so ok ho tre di fame sto che faccio alzati in vole dobbiamo tornare subito al campo è che i limiti della mappa sono tipo fatti dal mare quindi dopo la si dovrebbero preoccupare di oh mio dio mettiamo dei muri invisibili che dopo fanno schifo una barca che può viaggiare solo per tot quindi per percorrere brevi distanze quindi non ti puoi allontanare troppo dalla mappa altrimenti tipo che ne so esce un tentacolo e ti mangia che ne so non ho idea beh ci sta ci sta però tipo per percorrere brevi distanze magari ah comunque mi sono accorto adesso che sto tipo morendo di fame di freddo io ho tre di fame sto incominciando ad avere freddo quindi figuri io ho 14 fame quindi sì e adesso ho freddo e sto perdendo vita 112 110 sto perdendo vita per il freddo aspetta c'è una cosa di calore aspetta pure io sto iniziando a perdere vita ok grande ok ci stiamo bru... perchè sto ancora perdendo vita ma ci so vicino il fuoco ah per la fame sto perdendo vita porca miseria bar corri corri riusciremo a sopravvivere no non penso wow che cosa negativa dai che siamo vicini a casa ti chiama realismo eh effettivamente quanta quanta vita c'hai più casa 29 ok siamo al campo siamo al campo ehm si tieni sti semi almeno che cacchio no ma ce l'ho i semi ce l'ho i semi guarda che la mia fame ha 5 ok ok allora cuciniamo allora vediamo di mettere cosa che possiamo cuocere adesso aspetta 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 devo devo veramente consumare tipo allora io ho messo la carne ti ho dato altra carne ok dobbiamo uccidere un sacco i coniglietti qua però eh aspetta metto a cuocere con le uova qua aspetta che deposito un sacco di boiate qua accetta cacchio sto morendo di nuovo sto crepando a sto cibo mannaggia a lui ok allora con calma cos'è messo a cuocere ok mangia lì si mangia tu ok vado a prendere coal intanto metti a fare qualche altra cosa a finalmente la fame salita occhi d'occhi 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 d'accassino assassino tutti questi coniglietti carini inutili ah venite qua cucciosissimi faccio un'altra di quella cosa che tipo da tutta fame si fai da tutta la fame c'è tipo dalla non lo so quanto ne dia però ah l'importante è che ne dia tanta ok abbiamo un altro bel po di coal qui o cosa c'è un coso che mi ha attaccato arrivo la 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 ah ma non posso difenderti ah no aspetta forse si no non me l'ho fatto attaccare ah no si a porca eva eva non ha fatto attaccare vedo i tentacoli rossi sul mio schermo sono pazzo che bello ok è scomparso per ora però potrebbe tornare quindi stai a poco calore no 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 ok che bello vero ormai sei fondamentale vabbè ma io una pala ce l'avevo preso quella di chester vabbè fa niente allora metti a cucinare qualche altra cosa sto cucinando comunque mi ha dato tipo 150 di fame quella zuppa è pazzesca veramente quanto stai a vita sto a 103 ok allora mi sa che questa cosa che sto a fare la userò io allora intanto ok servono due assi continuate eccolo che torna ma attacca solo te nanananana eh beh si sono io il pazzo ok adesso attacca me ah si teletrasporta pure mi sa che non lo possiamo shottare perché non abbiamo tipo la spada delle ombre no 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 si può ammazzare se non erro però tiene pareccia vita eh pure la mano no 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 eccolo un'altra la mano ok spesso se ne sta andando no non se ne sta andando oh mio dio oh metti il cappello della dell'attacco ahhh il cappello del cappello della difesa attacco difesa la miglior difesa e il miglior attacco il miglior attacco la miglior difesa si si già non l'attacco è la miglior difesa no ahhh mettiamoci il miglior dappertutto ok la mia sanità ormai ho il cervello fatto tipo a noce hai presente le noci di base che bello è quella la forma che cioia ma dovrei raccogliere i fiori sono fottuto complet ma io non ho nemmeno più il boomerang no una mano ah no eccolo trovato aspetta una mano ok è andato è andato ah no eccolo di nuovo ok è andato ed eccolo di nuovo l'ottimismo di beh dai dai con la luce del ma non muore oh mi si è rotto il boomerang eh io non ci vado vicino diciotto di sanità la 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 adesso espi morirà sicuramente probabile cacchio mi servirebbe una potuta ricetta per la sanità o qualcosa di simile e i biscotti oh ma ce ne sono due eh eh vai porca miseria ma cos'è questa cosa uh ashes oh che gioia no eh a me servono riempiamoci dalle genere devo craftare il coso per caricarmi la vita magari poi sto posso combattere uh no le uova cioè stavo cercando di prendere le uova ma probabilmente non ci riusci bisogna andare in cerca di fiori basta no è l'unica eh bear portami dei fiori eh eh li devi raccogliere tu non vale se li prendo io si ma portami dei fiori perchè sto già morendo di freddo vieni qua vieni qua al campo c'è ah perchè non c'ho tutte le cacchiate al campo c'è ancora il fuoco ma sto coso ce l'ha con me ma non io sto ottengo 62 di sanità no ma lei just run out ma te ne vai in giro a pascolare che ne so tu cacchio di coso oh sei andato forse no lo vedo ancora no sta venendo da te oh sta venendo da te corri stavo cercando di scaldarmi un po' di recuperare un po' perchè bear adesso dobbiamo andare a prendere i fiori perchè altrimenti no veramente cioè si crepa qua bisogna correre verso i fiori eh devo anche mangiare in tesori allora tu facciamo una cosa vai a correre verso i fiori io mangio qua la carne ce l'hai tu? um no vabbè qui ci sono i conigli ho un coniglio vivo sono i conigli da ammazzare oh adesso c'ho i coniglietti neri che gioia possiamo ottenere tutto il nightmare fuel che vogliamo ehi forse è una buona occasione per ottenere il nightmare fuel aiuto ma riusciranno le aree despi a sopravvivere lo scopriremo nel prossimo episodio no ciao a tutti no cioè la risposta è no non serve eh no la risposta alla prossima ciao 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 hey 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 se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like e un commento ma non per quella cosa un milione di like sono il più figo di tutti oh yeah ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno e grazie avervi visto questo video ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao